Il medico risponde, diamo il buongiorno come tutti i venerdì al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive della Liguria. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, insomma, prima di ricevere le domande dei nostri telespettatori all'800 640 771 oppure via WhatsApp al 347 67 66 291 ci sono almeno un paio di argomenti da trattare insieme. Intanto questa settimana visto in Liguria un nuovo protocollo che avete messo a punto, Liguria prima regione in Italia, a uniformare le regole per quanto riguarda tamponi e mascherine. Partiamo da qui. Ma sì, credo che ancora una volta la Liguria dimostra di essere avanti rispetto anche alle altre regioni nella gestione del Covid. È stato un documento, lo definirei, adeguato e coraggioso allo stesso tempo perché prima di altri abbiamo detto che cosa bisogna fare. Soprattutto la cosa più importante è quella relativa ai tamponi. Cioè siamo usciti da una fase che è durata tre anni dove chiunque arrivasse in ospedale con qualunque cosa veniva tamponato per entrare in un percorso diciamo pulito o sporco. Ecco, aver semplificato il tampone in entrata secondo me è una rivoluzione che permetterà agli ospedali di lavorare decisamente meglio. Quindi il tampone verrà dedicato unicamente a chi ha dei sintomi compatibili con il Covid o con qualunque altro tipo di infezione respiratoria. Quindi questo è molto importante e mi auguro che tutti si attengano scrupolosamente a questo protocollo quindi non richiedere più i tamponi in dimissione, in uscita, in trasferimento che hanno dimostrato in una certa fase di essere utili oggi evidentemente non più. Ma l'altra cosa su cui credo che abbiamo avuto parecchio coraggio è quella delle mascherine. Cioè fondamentalmente mi risulta che molte regioni hanno mantenuto un obbligo in tutte le strutture sanitarie senza differenziazione tra strutture ospedaliere e strutture ambulatoriali senza differenziazione di dove si è all'interno dell'ospedale. Credo che aver detto che in un corridoio, in una sala di ristoro, in una sala medica, in una sala infermieristica la mascherina non c'è l'obbligo di utilizzo dopodiché se uno la vuole utilizzare lo può fare. Ecco, noi sanitari, in generale chi ha lavorato a stretto contatto con i pazienti con il Covid non solo sa benissimo quando deve utilizzarla. Ecco, io credo che su questo sia giusto avere un documento un po' più libero lasciando evidentemente l'iniziativa ai direttori sanitari e ai direttori delle strutture che credo che abbiano tutta la capacità di decidere quando servono e quando non servono. Quindi io credo che il documento Ligure farà scuola a livello italiano mi risulta che già altre regioni in qualche modo lo hanno voluto in modo tale da poterlo anche loro applicare quindi anche questa volta Regione Liguria, Alisa, il Dipartimento Interaziendale di Malattie Infettive e quello dell'emergenza credo che abbiano dato un contributo importante e credo che i cittadini Liguri possano essere contenti perché, ripeto, questa è la prima regione che ha svoltato. Anche perché, professore, l'abbiamo detto tante volte anche in questo spazio soprattutto per quello che riguarda i tamponi in pronto soccorso, il doppio percorso quanto aveva anche rallentato. Certo, fondamentale in un primo tempo ma in queste settimane, insomma, rallentava molto il lavoro quindi speriamo che ci possa essere anche, insomma, una maggiore velocità, diciamo così, in pronto soccorso. Beh, io credo che adesso non ci siano più scusanti nel senso che in qualche modo, qualche volta il lavoro è stato molto rallentato in qualche modo dal tampone oltretutto non è che noi abbiamo deciso di dire di non fare il tampone per accelerare il lavoro lo abbiamo fatto perché non serve ecco, questo è molto importante che i cittadini lo percepiscano cioè oggi non ha senso andare a tamponare gli asintomatici in una fase come quella che stiamo vedendo che è una fase in cui il virus è ormai endemico ormai la fine dell'emergenza è stata decretata a tutti i livelli anche se probabilmente un po' tardivamente da parte dell'OMS ma credo che il cittadino debba percepire che non è che noi non facciamo il tampone perché in qualche modo fa andare il sistema più lentamente no, noi non facciamo il tampone perché il tampone non serve ecco, questo è il messaggio che deve arrivare al cittadino perché se no il cittadino dice ah, ma adesso non fanno più il tampone perché così, pronto soccorso funzionano meglio però forse era meglio se lo facevano no, diciamo chiaramente ai cittadini che fare oggi i tamponi agli asintomatici è un qualche cosa che non gli migliora la qualità della cura andiamo con le domande Francesca scrive professore, perché però nel pronto soccorso non si può ancora entrare per assistere un malato specialmente se è anziano? beh, questo secondo me bisogna vedere i singoli pronto soccorsi io credo che sia giusto che le persone anziane che entrano nel pronto soccorso in qualunque altro reparto abbiano l'assistenza dei loro cari io lo dico da tempo devo dire che al San Martino io parlo dell'ospedale in cui io lavoro i pazienti anziani ma anche quelli non anziani hanno la possibilità di avere la visita dei parenti praticamente esattamente come era prima del covid quindi ovviamente in quel caso è giusto che il parente si metta la mascherina ma vede la mascherina al visitatore è una delle buone abitudini che mi auguro che il covid ci abbia insegnato come lavarsi le mani come mettersi la mascherina se hai dei sintomi respiratori per proteggere gli altri no sono quelle cose che dovrebbero averci fatto dovrebbe averci lasciato il covid di essere in qualche modo anche un po' migliori rispetto a come eravamo ha fatto bene usare il condizionale perché io non credo insomma vedendo qualche cosa insomma anche personalmente che certe cose che sembrano così la palissiana insomma ovvie le abbiamo imparate allora partiamo con la prima telefonata pronto buongiorno sono Pino Di Pelli buongiorno buongiorno Pino prego volevo chiedere al professore se sa nulla delle fedi cor che non si riesce a trovare è un medicinale che non attiene l'alerti il vaccino ecco però siccome la pressione è alta e una volta avevo un fedi cor da mettere su cioè lei ha difficoltà a trovare un farmaco diciamo esatto magari se sapeva qualcosa ecco penso non è allora diciamo che in questi tre anni abbiamo fatto tutto di più però ora addirittura trovare un farmaco per la pressione per i miracoli ci stiamo attrezzando ma credo che bisogna chiedere in qualche modo alla farmacia e al distributore purtroppo le dico una cosa c'è una in inglese si dice shortage cioè c'è una mancanza di molti farmaci perché in questo momento sta assorbendo tantissimo la Cina c'è ad esempio una carenza importante anche di antinfiammatori di ibuprofene e di altri perché loro stanno portando a casa un sacco di farmaci ieri su Corriere della Sera hanno fatto hanno riportato un articolo sull'acido urodesossicolico che è un farmaco che si usa per i calcoli biliari bene i cinesi lo stanno utilizzando per curare per prevenire il covid diciamo una cosa non serve assolutamente a niente come non è servita l'idrossicolorechina ma infatti io l'ho definita l'idrossicolorechina cinese però cosa succede che noi abbiamo una mancanza per il mercato italiano perché praticamente va tutto sul mercato cinese non vorrei che fosse lo stesso per il suo farmaco allora andiamo avanti Alberto ho 51 anni volevo sapere se in questo periodo si può ancora prendere il covid beh certo che si può prendere come abbiamo detto ecco io una cosa che devo dire che i cittadini devono sapere che è molto importante non è che fine dell'emergenza vuol dire fine della circolazione del covid non è che si schiaccia un bottone come dire adesso come quando spegni il televisore spento fine non c'è più finito no continua a circolare e come è in una fase endemica dove evidentemente ecco quando sento qualcuno che mi telefona e mi dice ho il covid ecco evitiamo di dire delle stupidaggini diciamo che oggi hai un raffreddore da SARS-CoV-2 che non ha non si può neanche chiamare ho il covid perché sarebbe un insulto a chi ha avuto il covid nel 2020 nel 2021 che era un altro mondo oggi il covid lo è ancora in forma impegnativa per pochissime persone fondamentalmente i gravi immunodepressi quelli che hanno delle problematiche importanti leucemie linfomi o altre malattie gravemente immuno che in qualche modo attaccano il nostro sistema immunitario ma per la stragrande maggioranza è una forma simile influenzale quindi quando sento dire ho il covid perché uno gli cola il naso perché ha avuto due giorni febbra 38 un po' quasi mi arrabbio perché dobbiamo aver rispetto di quelle 180.000 persone che sono morte del covid quello vero oggi in collegamento diciamo così da fuori e proprio per questo continuiamo a parlare ancora anche in questo spazio di batteri resistenti professore eh sì sono in Romania a Sinaia al congresso dei rianimatori rumeni perché sono qua proprio per questo problema cosa accumula Romania l'Italia lo sapete no che hanno i primi due punti la circolazione di batteri resistenti quindi siamo i paesi i due paesi che stanno messi peggio a livello europeo quindi in qualche modo ho appena finito una relazione qua sulla lotta ai batteri resistenti deve essere una lotta senza quartiere purtroppo i batteri resistenti con il covid si sono ancora più rinforzati ancora più cattivi sono diventati perché abbiamo usato troppo e male gli antibiotici in una infezione come il covid dove gli antibiotici non servono assolutamente a niente quindi diamo un messaggio anche ai cittadini usare la zitromicina del covid serve a qualcosa non serve a niente anzi fa sì che i batteri si rinforzino diventino dei super bug dei super batteri quindi cerchiamo tutti insieme di usare meglio gli antibiotici perché oggi siamo di fronte a dei microrganismi dei batteri che sono resistenti a tutti gli antibiotici cioè vuol dire che rischiamo di tornare nel 1930 quando non c'erano antibiotici quindi si muore per una polmonite per un'infezione urinaria da un batterio su cui nessun antibiotico funziona quindi siamo qua a dare un grido d'allarme al mondo intero ma in particolare all'Italia alla Romania alla Grecia che sono i peggiori paesi europei sull'uso degli antibiotici allora professor Bassetti messaggio che arriva da Silvia ho letto che rischiamo una nuova epidemia di morbillo è vero? esattamente purtroppo sì guardi ci sono dati che arrivano dall'Inghilterra che hanno avuto più casi nei primi quattro mesi del 2023 di quanti ne hanno avuto in tutto il 2022 e adesso è stato riportato recentemente un caso in un bambino del Maine attenzione perché se vediamo il morbillo nei bambini vuol dire che sono bambini che non hanno fatto il ciclo vaccinale ricordiamolo nei bambini si fanno due dosi di trivalente morbillo parotite rosolia e purtroppo questo è uno degli effetti del covid da una parte che nei due anni terribili ovviamente si è vaccinato di meno perché gli ambulatori vaccinali lavoravano su altre cose su covid e un po' perché tutta questa i vaccini covid alla fine si riverbera negativamente anche sugli altri vaccini quindi diciamo una cosa che le vaccinazioni sono fondamentali soprattutto quelle pediatriche vaccinate i vostri bambini perché se non abbiamo almeno il 95% di copertura nei bambini per il morbillo rischiamo che il morbillo ed altre malattie infettive tornino a circolare che poi insomma questa è un po' la vostra preoccupazione che abbiamo raccolto anche nelle scorse settimane negli scorsi mesi e cioè che anche per altre malattie si debba pagare lo scotto diciamo di quella che è stata la campagna novax e insomma queste sono la dimostrazione esatto è proprio questo purtroppo io devo dire che la informazione altamente antiscientifica che ha circolato in Italia nell'ultimo anno e mezzo grazie a molti suoi colleghi anche sia in televisione che sui giornali purtroppo sta danneggiando pesantemente l'intervento di sanità pubblica più importante della storia moderna perché neanche l'acqua potabile ci ha portato le vaccinazioni hanno risparmiato qualcosa come miliardi di morti nel mondo quindi dimenticarsi questo vuol dire come dire non avere memoria di quanto questo presidio negli ultimi 200 anni ci ha portato a vivere di più e vivere soprattutto meglio allora pronto buongiorno pronto sì prego faccia pure la sua domanda ah sì allora senta io volevo chiedere al professor Bassetti una mia parente si è fatta al covid e poi ha ripetuto un paio di volte il tampone l'ultima volta gli hanno detto è leggermente positivo adesso che sta a significare questo è leggermente positivo allora guardi le rispondo in maniera molto chiara oggi continuare a fare dei tamponi in uno che è sintomatico non solo è sbagliato ma è completamente inutile e contro tutte le raccomandazioni per cui dire a uno che non ha più sintomi magari dopo 15 giorni che ha un tampone ma è un errore e non va fatto evidentemente quindi quel tampone non andava proprio fatto e quindi non andava neanche rilevato la debole positività è un momento molto diverso rispetto a quello che vivevamo due anni fa un conto era dire nel 2021 sei debolmente positivo per ritornare a casa o per tornare in una struttura assistenziale io credo che dobbiamo evitare di fare tamponi inutili l'ho detto all'inizio e lo ribadisco me ne assumo completamente la responsabilità bisogna che chi faceva i tamponi si dedichi a fare dell'altro molto più utile di quanto lo siano stati i tamponi per il covid magari facciano dei tamponi per altre malattie infettive che ci servono ma in questo momento dire a uno che ha una debole positività dopo magari 15 giorni è perfettamente inutile si sono buttati via dei soldi sono Martino da Genova dovrei fare un ciclo di antibiotici per l'elicobacter di 10 giorni sono minorenne cosa come mi devo comportare ecco guardate l'uso degli antibiotici per le infezioni per esempio da elicobacter bisogna valutarlo attentamente bisogna vedere perché è uno dei tanti campi in cui purtroppo si usano male gli antibiotici troppo a lungo con farmaci magari sbagliati quindi io l'appello che faccio ovviamente non è alla ragazza che ha l'elicobacter se gliel'hanno prescritto avranno tutte le ragioni di farlo lo faccio soprattutto ai miei colleghi c'è ancora troppa leggerezza nella prescrizione di antibiotici da parte di alcuni miei colleghi bisogna che tutti insieme ripensiamo nuovamente al nostro ruolo noi dobbiamo sapere dire di no questo è il mantra verso il quale io spero di poter andare anche in collaborazione col ministero nel futuro saper dire di no all'uso degli antibiotici perché qua o diciamo di no o rischiamo nei prossimi dieci anni veramente di ammazzare tutti gli antibiotici di non averne più a disposizione occhio perché questo è un rischio veramente presente io ormai sono mi sento un disco rotto perché sono da vent'anni che mi occupo della lotta batterie risetti è vent'anni che dico questa cosa siamo veramente molto vicini a un punto di non ritorno Massimo scrive nella futura vaccinazione antinfluenzale in autunno ci sarà un'unica dose compreso il covid speriamo lo speriamo tutti sicuramente quello che sappiamo è che l'antinfluenzale andrà anticipata come l'abbiamo anticipata quest'anno cioè intorno a settembre ottobre già si farà ricordate fino a due anni fa si iniziava la vaccinazione la campagna vaccinale a fine ottobre quest'anno probabilmente si anticiperà e con l'anticipo della vaccinazione antinfluenzale ci sarà ovviamente anche richiamo per quanto riguarda il covid e ci auguriamo perché no che magari arrivi un vaccino unico buongiorno eseguita la quinta dose il 25 dicembre 2022 bivalente quanto rischio se dovessi venire a contatto con il covid affetta da bpco ipertensione linfedema ateromatosi carotidea esofagite problemi motori insomma lori ne ha molti allora diciamo in generale per le persone fragili professore ovviamente perché non si può parlare diciamo che la vaccinazione laddove funziona e funziona fortunatamente in oltre il 90% dei casi ha proprio l'obiettivo di evitare non di far venire l'infezione ma evitare di far venire le forme più gravi quindi se verrà in contatto con il virus del SARS-CoV-2 avrà magari un'infezione ci auguriamo tutti ci auguriamo che non gliela faccia venire e questo succede in circa il 70% dei casi cioè fondamentalmente evitare proprio anche il contagio ma se dovesse averlo la vaccinazione serve per non avere una forma impegnativa per non avere una forma grave quindi io dico che oggi chi ha fatto 5 dosi e tutto sommato ha una situazione a parte la bronchite cronica le altre sono situazioni che non immunodeprimono il nostro sistema di vivere una vita tranquilla ecco se voglio dire se poi va sull'autobus pieno di gente si vuole mettere una mascherina lo può fare fa bene a farlo però non vivere con l'ansia di prendere questo virus perché i vaccini sono proprio quelli che ci permettono di vivere la vita con meno ansia cioè sapendo che se prendo il virus avrò delle forme meno impegnative pronto? Buongiorno buongiorno sono Luigi prego un'informazione dal professore visto che si è parlato di morbillo i miei nipoti ovviamente hanno fatto il vaccino quando erano piccoli ora uno ne fa 15 l'altro 18 devono mica fare un richiamo visto che vanno in Inghilterra fra due mesi e poi e poi un'altra cosa noi vecchi che magari abbiamo fatto il morbillo da bambini dobbiamo fare qualcosa o no non serve niente grazie buongiorno due bellissime domande allora i suoi ragazzi i suoi nipoti hanno fatto il ciclo vaccinale completo per il morbillo immagino quello che si fa abitualmente cioè la trivalente quindi possono stare tranquilli sono coperti grazie alla vaccinazione per quanto riguarda le persone più avanti con gli anni cioè chi fondamentalmente come me la mia generazione ma anche quella del signore cioè chi è nato prima diciamo degli anni 90 quando sono arrivati i vaccini del morbillo per tutti possono stare discretamente tranquilli perché gli anticorpi che noi abbiamo sviluppato facendo la malattia naturale cioè la malattia esantematica del morbillo nei primi anni di vita si dovrebbero mantenere poi cosa succede che in alcuni casi noi abbiamo visto anche nel passato che magari in alcune situazioni decadono questi anticorpi magari in alcune persone che hanno qualche problema particolare però diciamo che non credo che sia il caso di dire andiamo a rivaccinare tutte le persone con più di 60 70 80 anni ecco in quei casi ci ragioniamo ovviamente anche sulla base di quella che sarà la curva epidemiologica cioè se dovesse esserci una ripresa della circolazione del morbillo evidentemente a livello di sanità pubblica si valuterà se non è il caso di fare delle dosi di richiamo al momento non ce n'è bisogno Lucia scrive ma quando il dentista ti dice di prendere l'antibiotico come ci si deve comportare? quando parliamo di antibiotico resistenza questa domanda arriva sempre professore è certo allora diciamo che i dentisti usano gli antibiotici per due ragioni la prima è se c'è un ascesso cioè se c'è un'infezione e allora in quel caso evidentemente si usa l'antibiotico per curare l'infezione la seconda ragione è per fare la profilassi della cosiddetta endocardite attenzione perché le situazioni in cui si deve fare la profilassi dell'endocardite sono molto poche io purtroppo vedo ancora troppe prescrizione di antibiotici dal dentista con la profilassi dell'endocardite in situazioni in cui non serve e purtroppo ahimè non lo dico io ma lo dicono gli americani circa una prescrizione ogni quattro che esce dal dentista è impropria quindi dobbiamo tutti insieme anche lì lavorare per dei protocolli in cui gli antibiotici si utilizzano solo quando ce n'è realmente la necessità anche come profilassi dell'endocardite come è possibile professore sentire ancora tutti questi casi di varicella e scarlatina a scuola e beh guardi allora la varicella dovrebbe non esserci se sono tutti vaccinati purtroppo lei sa bene che la vaccinazione per la varicella è diventata obbligatoria dopo il 2017 con la legge Lorenzin il che vuol dire che a scuola ci sono tanti bambini che magari sono nati prima nel 2017 che non hanno fatto la vaccinazione della varicella io credo che oggi non vaccinarsi per la varicella sia un errore perché è una malattia prevenibile purtroppo per la scarlatina non esiste un vaccino ricordiamolo che è un'infezione da streptococco e ahimè sta succedendo un po' in tutto il mondo che lo streptococco sta circolando moltissimo nelle scuole però stiamo tranquilli perché la scarlatina è una malattia infettiva curabile con gli antibiotici 10 giorni di antibiotico e si guarisce completamente allora velocissima l'ultima telefonata pronto? ha buttato giù benissimo allora ancora meglio così chiudiamo giusti e puntuali professore chiedo scusa ai tanti che hanno scritto delle domande per lei a cui non siamo riusciti a dare una risposta ci rivediamo venerdì sempre alla solita ora buon lavoro grazie buon lavoro anche a lei arrivederci